Prossimo messaggio da parte di Fatima e sua figlia Noemi. Fatima scrive Carissimi e amati fratelli, Dio vi benedica. Sono Fatima che vi disturba come sempre. No Fatima, dagli un bacione Angela. Fatima vieni qua per un forte abbraccio. No Fatima, tu non ci hai mai disturbato perché tu sei una sorella vera. È vero, sì. Dio mandaci fratelli veri, non mi dice se non ci hai disturbato mai. E poi ci ha inviato una foto con lei, il marito e Noemi con tre sorrisi immensi, bellissimi. A volte c'è un po' di tempo a rispondervi, ma non lasciatevi scoraggiare da quello, ok? Perché non disturbate mai e poi mai. L'unico che disturba qua è il diavolo, nessun altro. Va bene? Poco fa, mentre con mia figlia Noemi ascoltavamo il messaggio Analisi profetiche sul crollo finanziario, Noemi mi dice, mamma vorrei fare una domanda a fratello Giuseppe, vorrei chiedergli, come faccio a far capire ai miei amici e parenti che Gesù esiste, che lui non vuole farci del male? Poi mi dice di scrivervi perché lei vuole ascoltare la risposta da fratello Giuseppe. Lei ha tredici anni e io ogni giorno cerco di fargli capire quanto Dio sia importante. Se tu, carissimo fratello Giuseppe, hai una parola per lei, da parte di Gesù ne sarei felice. Ma non solo per Noemi, ma per tanti altri ragazzini che ne hanno bisogno e che sono lontani dal cuore di Dio. Ora lascio lo scrivo e vi abbraccio forte, forte. Per Dora e Angela, un bacio da parte di Noemi, dice di dirvi che vi vuole bene e che siete tanto dolci, come lo è il nostro caro fratello Giuseppe. Dio vi benedica e vi dia potenza e forza nel nome di Gesù. Grazie sin da ora per tutto e come sempre, grazie Gesù. Alleluia. Grazie Noemi, anche noi ti vogliamo bene, sei dolcissima. Che dolce che sei a me, grazie Signore, grazie Gesù. Un abbraccio e un bacio Noemi, da parte mia e uno più grande da parte di Gesù. E uno anche da parte di Angela. Certo, uno doppio. Anche Davide? Sì. Amen. Allora, ti voglio tanto bene, dolcissima Noemi. Credo che tu sia uno di quei bellissimi piccoli angeli con i quali Gesù ha benedetto la nostra chiesa. Ti voglio bene. Ah, ma Gesù più di me. Amen. Vuoi ascoltare la parola di Gesù per te, Noemi? Guarda, lui mi ha dato questa scrittura in Luca 18, 15 e mi ha detto di personalizzarla per te. Vuoi ascoltare? Dice così, amata Noemi, sono Gesù. Un giorno hanno portato davanti a me dei bambini, che erano come te, Noemi, perché io li toccassi. Ma i miei discepoli, vedendo ciò, sgridavano i bambini. Allora io, chiamando i miei discepoli, dissi loro, lasciate che i bambini vengono a me. E non glielo vietate, perché il regno di Dio è perché assomiglia a loro. In verità vi dico, chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto. Chi non accoglie il regno di Dio come te, Noemi, non vi entrerà. Alleluia. Capisci, amata figlia, il mio regno è fatto di piccoli angeli come te. E io non vedo l'ora che tu giunga qui, da me, per abbracciarti e dirti quanto ti amo. Fine del messaggio di Gesù. Amen. Grazie, Signore. Comunque adesso ascolta, sono fratello Giuseppe, per rispondere alla tua domanda, amata Fatima, il modo migliore di far capire chi è Gesù, la domanda di Fatima e di Noemi. Sì. Per far capire chi è Gesù agli atei, la cosa migliore, non è neanche la Bibbia che loro non credono, ovviamente, ma è la nostra testimonianza personale, di come Gesù si è manifestato a noi, di come Egli ci dà pace, di come ha cambiato la nostra vita, di come ci aiuta tutti i giorni, di come risponde alle nostre preghiere dal cuore, cioè le preghiere giuste, quelle fatte in base agli insegnamenti del Vangelo, e come appunto è scritto, c'è nel primo Giovanni 5,14, vado, lo leggo io, questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce, cioè se preghiamo cose che è nella volontà di Dio, Egli ci esaudisce. A volte però non le riceviamo perché? Perché il diavolo combatte, e allora bisogna vincere il diavolo. È volontà del comandante andare a conquistare il territorio, però devi combattere il nemico per arrivarci. È volontà di Dio che raggiungiamo la salvezza, la guarigione, la benedizione, la protezione, certo. Ma dal punto A per arrivare a B bisogna attraversare, aspetta fammi cambiare, giustare, dal punto A per arrivare a punto C, devi passare a punto B. Quindi A sono io, B è il diavolo e C è la volontà di Dio, capisci? Il diavolo è nel mezzo, e lì è ostacolato, i demoni. Di solito è così. Quindi preghi per la guarigione e non la ricevi, perché? Dio l'ha data, come Dio non l'ha data? È certo che l'ha data, è il diavolo che combatte. Va bene? Quindi guarda, un modo di evangelizzare e dimostrare loro, cioè dire loro che, per esempio, quando tutti intorno a noi possono essere tristi, possono essere disperati, abbattuti, arrabbiati, magari cattivi o in depressione, senza scopo nella vita, mostrare loro che Gesù, in quella situazione, a noi che siamo cristiani, ci aiuta ad essere nella sua felicità, nella sua pace, gioia, pieni di amore. Devi dire loro che la presenza del Maestro è una cosa che si sente dentro, non è che non si può spiegare in lingua italiana. È una cosa del cielo, non si spiega. Come andare a spiegare a un cavallo, come fatto a un computer, non può capire. Bisogna provarla. Devi testimoniare loro di come Gesù ha sostituito le cose negative della tua vita di prima, come era brutta prima, sostituito con il suo spirito di amore, di gioia, felicità, e che ora il tuo stare bene non dipende più, per esempio, da cose che nella vita di molti, o che possono essere cose come bere, la tv, o videogiochi, o droghe, o sesso pervertito, o soldi, carriera, eccetera. La nostra felicità non dipende più da queste cose che vanno e vengono e poi ci lasciano sempre, ma dipendono da una cosa eterna, perfetta, celeste e Gesù Cristo e il suo spirito, neanche la religione. Quando io evangelizzo, la prima cosa che faccio è da una bastonata in testa alla religione, che Gesù non è religioso, è stato perseguirato da religioso, fatto uccidere da religiosi, e oggi quei religiosi così, ce ne sono ancora oggi moltissimi, solo che invece andare in giro con la legge di Mosea, vanno in giro con la croce attaccata al collo. La stragrande maggioranza dei cristiani nel mondo sono falsi. Ci sono circa 3 miliardi di cristiani, 3 miliardi di cristiani. E quanti sono quelli veri? Solamente quelli che li vedi portare frutti per Cristo, non muo da nell'altro. Quindi chi è in grado di capire questo, spiegaglielo. E spiega loro che vi sono profezie anche nella Bibbia, questo è un altro punto importante, se riesci ad arrivare a quel livello. Dice che sono profezie che sono state scritte secoli prima che Gesù fosse nato, e che per il fatto che lui abbia adempite tutte queste profezie, più di 300 l'inadempite, mostra che lui è veramente il Salvatore mandato da Dio. Spiega che tutte le religioni, comprese le false religioni cristiane, insegnano che dobbiamo salvarci da sole, compiendo buone opere. È una cosa impossibile. E vedi Efesini 2,8,9. Ma che Gesù non è una delle tante religioni, religioni vuote, noiose, fasulle, e che non dobbiamo fare opere per meritarci Gesù la salvezza eterna. Ma al contrario, Gesù ha invece pagato per i nostri peccati sulla croce. Adesso Gesù ci pulisce. E adesso lui, cioè ci rende degni di ricevere la salvezza per entrare nel suo regno. Dammi una scrittura, secondo Corinzi 5,21, per favore. Io ti leggo una scrittura, Apocalisse 5,9. Secondo Corinzi 5,21. 5,21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Ho capito? Quindi va anche Matteo 20, quindi sta dicendo qui, Gesù non ha conosciuto peccato, però è diventato peccato. Cioè, chiunque il crocefisso era un criminale, no? Perché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Noi siamo diventati giustizia in Cristo. In Cristo. Se abbiamo Cristo, siamo giustizia per lui. Quindi siamo degni della salvezza in Cristo. Va bene? E quindi anche Apocalisse 5,9, dice, cantavano un cantico nuovo, dicendo, tu sei degno di prendere il libro e prendere in sigilio perché sei stato immolato, hai acquistato a Dio col tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Quindi col sangue di Gesù il Signore ha acquistato gente pentecostale, battista, protestante, evangelica, cattolica, Geova e musulmani e hindù e ati e prostitute e drogati e spacciatori. Li ha convertiti col suo amore e col suo sangue. Quindi il popolo di Dio non è una religione cristiana così a cosa. Queste sono tutte stupidaggi e fuma negli occhi. Proprio di Dio è gente di ogni nazione. Sono i più grandi disgraziatoni, i più grandi buoni a nulla, però purificati col sangue di Cristo. Mattia 20,28. 20,28. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi mostrare a questi atei che Gesù ha dato la vita per riscattarci, cioè dirgli, guarda caro amico ateo, qual è la prigione che rende la gente perfetta? Qual è la scuola che pulisce il cuore? Nessuna. Però fai un'indagine, fai un'indagine di mercato, vedi che tutti quelli che hanno veramente dato al suo cuore Gesù, che hanno veramente ricevuto Gesù, la loro vita è cambiata. Chi si drogava non si droga più, chi era una prostituta non lo è più, chi era adultero non lo è più, chi è imbroglione non lo è più. Lui ti dirà, ma guarda le chiese, sì, certo le chiese, ma allora guarda anche i farisei, che discorsi. Cioè il diavolo, per esempio le chiese per mostrare che Dio non c'è, infatti molte chiese, la maggioranza delle chiese, sono lo strumento più potente per il diavolo contro Dio. Cioè il diavolo non ha strumenti migliori delle chiese per mostrare che Dio non c'è, di che sono così ipocriti, così freddi, così buoni a nulla, così materialisti, che come fa esserci Dio? E hanno ragione il diavolo, infatti lì Dio non c'è di sicuro, in quel sistema, in quel religionismo. Quindi, questo è il modo che io evangelizzo gli atei. Credo che una difficoltà che incontrano questi ragazzi di questa età come Noemi è come far capire ai suoi amici, altri ragazzini, che le cose del mondo non sono le cose giuste da seguire, come i fidanzati, il sesso, la discoteca, perché tutti vogliono seguire le cose del mondo e non Gesù. Va bene, però sai, non è un buon approccio però così, non puoi andare da un ateo a dire, non andare in discoteca, non ti drogare, non puoi andare da un omosessuale a dire, non devi essere omosessuale, perché si burlano di te, si gridano di te. Non puoi andare da un ladro a dire, non devi rubare e non è possibile, perché quello non può. Il ladro non può smettere di rubare, l'omosessuale non può smettere l'omosessuale, perché non sa neanche che è peccato. Perché devo smettere di rubare? Guarda i politici, fanno a gare chi ruba di più, chiudi gli occhi, metti la mano su un politico, lo investi, chi è un ladrone, il 99%. Cioè, non puoi, il ladro dice, no, rubano tutti, rubo anch'io, e c'ha ragione che tutti rubano. Quindi, il modo per pulire la gente del peccato non è predicare contro il peccato, ma di innalzare Gesù, innalzare Cristo. Cioè, un dottore che vuole guarirti non spinge la malattia fuori dal tuo corpo, ma immette, ti fa ingerire una pillola, ti dà una medicina, e la medicina poi ripulisce il tuo corpo. Non puoi cacciare fuori i germi dal tuo corpo, non puoi andare in una stanza, oh, che buio, apri le finestre, cacciare fuori le tenebre, hai mai sentito una cosa così? Devi accendere la luce. Non puoi andare in un omosessuale e dire, senti, l'omosessualità è sbagliata, la Bibbia dice sbagliata, la Bibbia dice che va all'inferno. No! 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 E allora cosa fai? Vai in un omosessuale e diventi un amico, non è che diventi omosessuale, diventi amico, e dici, ah, siamo omosessuali, ah, piacere, tu sei omosessuale, ah, bene, dica, e quello già diceva, ma questo sa che sono omosessuale e non mi ha ancora maledetto, non mi ha ancora picchiato la Bibbia in testa e mi ha fatto stimolare di Gio, ma che neanche si avvicinano agli omosessuali, quelli sono solo evangelizzati picchiando la Bibbia in testa, l'ignorante non conosce neanche il nome di Dio, ma non si evangelizza così, si diventa amici, i farisei, perché criticavano Gesù? Perché erano insieme alle prostitute, ai pubblicani, ai peccatori, vostro maestro, mangio coi pubblicani, è logico, perché sono venuti per gli ammalati, ma gli ammalati, è inutile che gli predico, il dottore che vadano ammalato e dice, lei è ammalato, io sono ammalato, e gli predico contro la malattia, non lo guarirà mai, il dottore dice, si sieda, qui c'è una pillola, qui c'è un'iniezione, non ti predico contro la malattia, ti dà una medicina, va bene? Va bene, ho capito, quindi guarda, io a proposito della sorversa per grazia, non per opera, ho messo un video sulla nostra pagina radio che si chiama Good Omito, a quello che Filippo ha mandato, sì, c'è un video sulla nostra pagina radio, ci si chiama Good Omito, che parla della salvezza per grazia, bellissimo, mi sono divertito, un video, quanti minuti è? Tre minuti, è anche un esempio di come fare teatrini di evangelizzazione, questo era un teatrino? Sì, i fratelli ci hanno scritto di evangelizzare nelle strade, questo è, qui ecco il nato teatrino, avevano già mandato i due, no? Sì, abbiamo già messo i due sulla radio, sono ancora sulla prima pagina, ok, questo per i fratelli che vogliono evangelizzare col teatro, che anche noi facciamo teatrini, questi sono degli esempi, e qui c'è un terzo, c'è sedere uno, uno che si sedia e fa la parte di Dio, quell'altro Gesù, quell'altro fa il diavolo, e poi mandare dentro i peccatori, in questo video è un esempio, quindi mandati i peccatori, quello che ama il denaro, quello che ama la, che so, il religioso ipocrita, fariseo, il politico, e tutti vengono rigettati, no? Voglio dire, i teatrini sono un modo super di evangelizzare, e poi entra la prostituta, entra il peccatore, anche sì, si butta per terra, sai, la peccatrice che si butta i piedi di Gesù e bacia sui piedi, e io non sono degna, non sono degna, mandami all'inferno, io ho peccato, e Gesù gli dice, sì, però tu ti sei pentita, sì, mi sono pentita, ma non mi merito, non mi merito, Gesù l'alza, prende per la mano e dice, sei perdonata, i farisei, come? Noi abbiamo digiunato due oltre a settimana, noi pagato la decima, noi andavamo alla chiesa pentecostale, cattolica, alla chiesa battista, andavamo, come? Perdonate lei, noi no, ci siamo? Sì. Fate un teatrino bellissimo, fratelli. Va bene, andiamo. Infatti, attraverso i teatri abbiamo visto tanti, tanti giovani, prima di tutto giovani che piangono, si convertono, è una maniera molto potente di evangelizzare, perché i giovani non sempre vogliono sentire prediche, che sembriamo religiosi, non vogliono ascoltare, ma a un teatro, sì, vengono a guardare. Ma la predica migliore è che piace agli atei è predicare contro la religione, predico contro le prediche, va bene, funziona. Amen. Pausa musicale, Giuseppe? Che canzone hai? Voglio dedicare a Noemi una canzone che dice Fino a quando vita avrò, il tuo amore annuncerò. Sarò fedele nel silenzio se parlare non potrò. Finché respiro avrò, di cuore Dio ringrazierò. Fino a quando vita avrò, il tuo amore annuncerò. Fino a quando vita avrò, ogni vento, ogni colore, viene a trovare no a te, ogni sogno dentro a me, al vero amore mi riporterà, e parole di ogni storia, ogni sempre arriva a su, ogni angolo creato, parlerà di te. Fino a quando vita avrò, il tuo amore annuncerò. Sarò fedele nel silenzio se parlare non potrò. Finché respiro avrò, il cuore Dio ringrazierò. Fino a quando vita avrò, il tuo amore annuncerò. Fino a quando vita avrò, Dio ringrazierò. da i monti alle vali, ogni fiume al mare va, ogni mano che si dà, porta pace intorno a chi non ne ha, pregherà. Ogni stramice pregherà, ogni gesto di bontà, la speranza in ogni cuore, Fino a quando mi cadrò il tuo amore annuncerò Sarò tenere nel silenzio se parlare non dovrò Di che respiro avrò il cuore che io ringrazierò Fino a quando mi cadrò il tuo amore annuncerò Fino a quando mi cadrò il tuo amore annuncerò Fino a quando mi cadrò il tuo amore annuncerò Fino a quando mi cadrò il tuo amore annuncerò Fino a quando mi cadrò il tuo amore annuncerò Sarò tenere nel silenzio se parlare non dovrò Il mio respiro avrò, il cuore mio ringrazierò, fino a quando vincarò, il tuo amore non c'erò. Il mio respiro avrò, il tuo amore non c'erò, non c'erò, non c'erò, non c'erò, non c'erò, non c'erò, non c'erò. Il mio respiro avrò, il tuo amore non c'erò, non c'erò, non c'erò, non c'erò, non c'erò, non c'erò, non c'erò. Il mio respiro avrò, il tuo amore non c'erò.